L'allenamento di oggi sarà strutturato così, una parte di riscaldamento con una parte di esercizi funzionali e dopodiché passerò all'allenamento aerobico, con la corda. Andiamo a vedere insieme che cosa faccio. Ogni mattina al mio risveglio mi piace fare un po' di esercizio muscolare, in modo da iniziare bene la giornata. Tutto quello di cui ho bisogno è il mio tappetino e il mio rullo. Per il resto andiamo a vedere cosa faccio. Iniziamo il nostro stretching con qualche rullata. Grazie. 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 Sì. polpaccio l'ensore della fascia l'altra l'allenamento con la corda prevederà due serie da 15 minuti di cui tre minuti di salto e un minuto di recupero e andrò avanti così appunto per un totale di 30 minuti andiamo ciao ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando ricordatevi di commentare qua sotto e ci vediamo presto ciao